Giornata di ritorno a scuola per gli alunni fino alla prima media, una decisione accolta positivamente da molti genitori, ma non mancano gli scettici sulla ripresa delle attività in presenza a poche settimane dalla fine dell'anno scolastico. Questa mattina le telecamere di TV City hanno raccolto le opinioni dei cittadini torresi. Oggi si ritorna tra i banchi, quali sono le sue sensazioni da genitore? No, diciamo che è un fatto positivo, purché si resti sempre in sicurezza e rispettando le regole. Certo che i bambini a scuola è tutt'altra cosa, perché non, parlo per mia figlia, non ce la faceva più con la dad, ha bisogno proprio del rapporto con i professori, con gli amici, ha bisogno proprio quel fatto di interloquire, quella cosa che manca con la dad. Era il momento perché i bambini stavano male ed era giusto, abbiamo fatto un anno intero in dad e quindi i bambini devono riprendere la loro vita con tutte le attenzioni e adesso gli insegnanti sono vaccinati e quindi dovremmo stare un po' più tranquilli. Dobbiamo soltanto continuare a rispettarci perché comunque mandare i figli a scuola poi dopo di che non trovare i bambini in mezzo alla strada così a perdere tempo. Questo è il nostro augurio più grande. Io vedo troppo di senso fuori dalle scuole, non dentro. Anche perché i contagi, le scuole sono state chiuse fino adesso, i contagi non sono diminuiti, quindi non diamo la colpa alla scuola. Sono molto d'accordo con la didattica in presenza, anche perché a casa era un attimino un po' più complicato. Speriamo che i bambini la prendano bene, insomma, questo nuovo ritorno a scuola e che sia, insomma, in maniera definitiva fino alla fine dell'anno. Arrivati a questo punto, diciamo, dell'anno scolastico sembra una cosa un po' così far ritornare i bambini a scuola. Togliendo i sabati, togliendo le domeniche, il 25 e il 1 maggio è festa, rimane quel mesetto più o meno di scuola, quindi non so fino a che punto sia proprio necessario questo rientro a scuola, anche se io sono sempre favorevole. E suo figlio invece o sua figlia era contenta di ritornare tra i banchi? Diciamo un 50%, un 50%, perché comunque per loro stare a casa, fare la videolezione, finiscono e già sono a casa. Un bambino di 8 anni sicuramente è felice, però dall'altro lato è anche felice di tornare a scuola, perché comunque magari non lo dice, ma vuole vedere gli amici, anche le maestre, sì. Oggi si ritorna tra i banchi, quali sono le sue sensazioni da genitore? Ritornare a scuola quasi è finita, è solo una presa in giro, voglio dire. Questi bambini ormai non socializzano più, non riescono più a stare insieme al contatto con gli altri bambini, quindi comunque è stata, penso che per tanti bambini è stata una tragedia, è stato un dramma, proprio per restare chiusi in casa tanto tempo. E' fiducioso sul fatto che si possa terminare l'anno scolastico in presenza? Poco, pochissimo fiducioso, visto che comunque i casi ci sono, ritornare a aprire la scuola così, secondo me adesso riaprono, poi riaprono, poi riaprono, poi riaprono, questi bambini non sanno più nemmeno l'ora, sono confusi. Contento per loro, sinceramente non vedevo l'ora, la priorità è l'istruzione dei bambini, quindi io sono felice. E' fiducioso sul fatto che si possa concludere l'anno scolastico in presenza? Non lo so, sinceramente, vediamo in questi giorni, spero di sì che possano continuare. Spera che tutti gli alunni, quindi da oggi si riprende fino alla prima media, si augura che anche dalla seconda media in poi si possa rientrare a scuola, quale augurio può dare a questi ragazzi che sono ancora in didattica a distanza? Ma certamente l'istruzione è fondamentale per questi ragazzi, quindi mi auguro che tutti quanti possano riprendere a studiare il loro percorso, quindi è importante che i bambini vadano a scuola.